Lo spettacolo Weekend Dance continua, questo è un momento bello, particolare, dedicato ai giovani ma anche ai meno giovani. Parliamo di lavoro, ahimè di questi tempi c'è crisi lavorativa, non c'è sbocco occupazionale e la nostra trasmissione naturalmente ha il piacere di interloquire con il dottor Pagano che è il direttore di Alstofram, scuola di formazione professionale a Casoria, il mitico palazzo di vetro perché con i suoi consigli in parte riusciremo ad affrontare il problema. Benvenuto su Weekend Dance. Un saluto a tutti quanti voi, sicuramente è un periodo molto difficile, una crisi che continua. Ebbene noi come formazione professionale possiamo forse dare la giusta pillola anticrisi. Per i giovani trovare oggi un'occupazione è sicuramente diventato difficilissimo, spesso si rincorre il concorso o si invia il curriculum per cercare di trovare occupazione. Ebbene diventa sempre più difficile. Suggeriamo di seguire un corso di formazione, ad esempio esperto massaggiatore del benessere, truccatore. Sono dei corsi che sanno dando davvero dei grandi risultati perché il giovane può con un corso del genere trovare delle collocazioni davvero interessanti. Immaginiamo ai centri spa per poter collocare un massaggiatore piuttosto che un centro estetico. Ebbene anche lavorare nel settore cinematografico. Immaginiamo alle tante spuse che ovviamente il giorno più importante della loro vita hanno bisogno del truccatore professionista. Quindi sono dei corsi davvero interessanti e tra l'altro con dei percorsi abbastanza agevoli. Parliamo di corsi che durano 8-9 mesi al massimo. Percorsi tra l'altro interessanti perché si articolano delle fasi di teoria d'aula, pratica di aula e soprattutto degli stagi molto interessanti dove i ragazzi iniziano a toccare con mano le esperienze del lavoro e quindi poi superare la cosiddetta prova del 9 per potersi poi collocare in modo concreto e fattivo nel mondo del lavoro. Ricordiamo che sono corsi rigorosamente autorizzati dalla regione Campania, quindi spendibilissimi anche oltre confine. Quindi allarghiamo un po' gli orizzonti per questi giovani che hanno difficoltà di trovare lavoro nel nostro paese e quindi credo che davvero può essere la giusta soluzione, il giusto rimedio a questo momento di grande difficoltà. Grazie al dottor Pagano di Assofram, scuola di formazione professionale a Casore, quindi una valida alternativa per il trucco e per i massaggi. Quindi sul sito, sul desk naturalmente, il vostro sito è? Beh, ricordiamo di consultare il nostro sito che è www.assofram.it. La motivazione è semplicissima, ci sono tanti filmati. I filmati servono a far capire al giovane che magari non è ancora ben orientato quale potrebbe essere la scelta futura. Da questi filmati si può realmente comprendere tutto e avere già una prima idea di cosa vuol dire partecipare ad un corso di formazione rigorosamente riconosciuto dalla regione Campania. Noi di Weekend Dance saremo sempre vicino ai giovani ed ai meno giovani per dare loro informazioni alternative occupazionali, naturalmente nella speranza che questo possa concretizzarsi in modo positivo nel più breve tempo possibile. Alla prossima dottor Pagano e grazie sempre di tutto. Ricordiamo il numero di telefono 081 757 67 37 e un saluto ai telespettatori di Weekend Dance.